Nel reparto di pediatria della città ospedaliere è ricoverato per covid un bambino di due anni. Nelle scorse settimane a finire in ospedale era stato invece un bambino di cinque anni con prima dose di vaccino che è stato dimesso nei giorni scorsi. Bambini positivi che richiedono l'ospedalizzazione, questo è il particolare che al momento preoccupa. In Italia sono circa 400 ricoveri ospedalieri che in una settimana hanno riguardato i bambini tra i 5 e gli 11 anni sotto 134 ospedalizzazioni relative alla fascia di età 0-19 anni. La scorsa settimana i ricoveri di bambini sotto gli 11 anni erano stati 113. A rilevarlo è la Società Italiana di Pediatria sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità, sottolineando l'importanza della vaccinazione per proteggere i più piccoli anche dal rischio ricovero. Complessivamente nell'ultima settimana sono state oltre 294 mila le nuove infezioni nella fascia 0-19 anni con 13 ricoveri in terapia intensive e un decesso. Il contagio sta rallentando in tutte le fasce di età tranne che nei bambini sotto gli 11 anni per i quali risulta in aumento. E quanto afferma la Presidente della Società Italiana di Pediatria, Stajano, oggi è disponibile un vaccino sicuro ed efficace per i bambini, per questo abbiamo l'obbligo di proteggerli. Attualmente solo il 7% dei bambini italiani tra i 5 e gli 11 anni hanno completato il ciclo vaccinale e il 27% è stato immunizzato con la prima dose. La Presidente esorta i genitori ad iniziare al più presto il ciclo vaccinale per i loro figli, così come ricorda i genitori dei bambini immunizzati con la prima dose, l'importanza di completare nei tempi previsti il ciclo vaccinale, in maniera tale da offrire ai propri figli la più ampia protezione nei confronti del virus.